effetto quella la è grossa quella la con il motosega è molto sega grossa quella la non la sta è difficile wow Grazie a tutti. Bravo. Grazie. Bravo. Bravo. Dritto si. Sì, quasi. Terzo, senti come è data lui, fino a là. Poi la ricorreggi ed hai via lento, ma non rallentare. Terzo, ma non rallentare. Dagli tutto sotto e poi la mandi via lenta, morbida. Ah, devo andare io ovviamente. Bravo. Bravo, Fran. Grazie. 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 seconda sta indietro col culo e lasciala correre non andare troppo lento vai fino in fondo c'è in fondo fidati seguilo non andare troppo lento non andare troppo lento vuoi fare il rampone? vado a provare anche questo vai al rampone a vedere va a provare il racconto quando a me non arriviamo va a provare il racconto 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 non devi chiudere l'ultimo non bisogna chiudere in fondo ma sta arrivando anche lui no? sì oh mamma mia se metti la quarta la scorpa non va più dai lì dai lì ti asso a martello e lascia attenzione va a provare il racconto 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 Ma calma vi per придere va a provare il racconto ma vu bother non avessi va vanno ma mi consultants sp mi ch L'acqua, scemo! Dovevo dargli ancora un pezzettino C'è ancora il vice di apri e chiudi Che non va affatto con questa Non devi chiudere Mi dà l'impressione di Di parzializzarla invece non va bene Capo lento Non va la quarta questa qua Devi fare terza ma ha aperto tutto Ti attento a scendere che vado giù cento all'ora E non rallenti un cazzo No, di là io a metà ho mollato tutto No, magari qua tiene un pelino di più Non so se è un bene Aspetta eh Prima che mi cade lì in mezzo no